Nei giorni scorsi La cronaca italiana ci ha consegnato un episodio sgradevolissimo, che lo riassumo davvero in una battuta. Un parroco della diocesi di Pistoia, volendo ringraziare un gruppo di ragazzi di colore che avevano lavorato all'interno di una ONLUS, la ONLUS Papa Francesco, li porta come forma di ringraziamento nella piscina pubblica in una giornata di relax. Alla sera, in questa piscina ovviamente, sono momenti di grande gioia, momenti di grande fraternità, quindi grandi sorrisi, belle fotografie che alla sera il parroco, rientrato in canonica, mette immediatamente posta su Facebook con un commento un po' particolare, dove lui dice «Questa gente è la mia patria, i razzisti e i fascisti sono i miei nemici». Questa è la frase un po' infelice che il parroco posta sotto le fotografie che vengono pubblicate su Facebook. Cosa non fosse mai accaduto, come mettere la benzina vicino al fuoco, sta di fatto che la sera stessa gruppi di forza nuova, le forze politiche di centro-destra, giornali, televisioni e quant'altro, vanno all'attacco di questo prete colpevole di avere fatto questa scelta, di avere pubblicato queste fotografie e raccontato di questi immigrati che sono stati portati in piscina. Fino alla minaccia poi portata a termine da parte di Forza Nuova di andare in chiesa la domenica per ascoltare l'omelia del prete e verificare il pensiero di questo parroco. Non sto qui poi a raccontarvi tutti i commenti che sono apparsi sui giornali contro il parroco Catto Comunista, contro questa chiesa che è insensibile al problema sociale causato dagli immigrati e tutti questi discorsi che conoscete meglio di me. Allora io vorrei oggi fare due semplicissime considerazioni. La prima è una considerazione da cristiano e che dovrebbe toccare ogni cristiano. Quando si parla di immigrati io credo che dobbiamo distinguere molto bene quello che è il piano, chiamiamolo umano, cristiano, pastorale, da quello che è il piano politico. I cristiani quando hanno davanti una persona umana non possono mai, per nessuna ragione, mai dimenticare che questa persona è una creatura, un figlio di Dio. Questo è il piano pastorale, questo è il piano umano cristiano. Cioè il Vangelo non potrà mai legittimare nessuno a dire che una persona è una rogna, che una persona andrebbe rimossa, che una persona è un cittadino di serie B. Quindi i luoghi comuni che si sprecano in questi casi devono far rendere conto che un cristiano di fronte a una persona non può mai dimenticarsi che questo è un figlio di Dio. Sto pensando ad alcuni scritti che leggevo in questi giorni, in cui si diceva ma il Papa non capisce, ma il Papa è un catto comunista, ma il Papa come si permette, ma i preti se li portino a casa loro allora facciano questo. Deve essere chiaro che ogni cristiano quando parla di questi problemi deve avere un rispetto enorme nei gesti, nelle parole, in tutto quello che fa quando incontra una persona, perché ogni persona è lo spazio, l'abitare di Dio in questo mondo. Che è un problema diverso, questo sì, da quella che è la gestione sociale e politica del problema. Quando la Chiesa dice tu devi voler bene a tuo fratello, non dice alla politica lascia perdere, non gestire, fai venire tutti perché tanto qua allegria va a finire a vino e a tarallucci, risolviamo il problema così. La Chiesa dice io quando parlo di un fratello devo parlarne in termini di rispetto, di attenzione, di amore fraterno. Tu politica hai il compito di gestire da un punto di vista sociale e da un punto di vista legislativo il problema. E abbiamo sentito l'intervento del Presidente dei Vescovi Italiani, il Cardinale Bassetti, abbiamo sentito tanti interventi in cui si dice precisamente questo, noi come cristiani dobbiamo amare questi nostri fratelli, dopodiché è la politica che è chiamata a gestire questo problema. Allora io vorrei proprio anche per tutti quei cattolici che finiscono per essere prigionieri delle ideologie che vengono vendute sui giornali, vorrei pregare proprio davvero e cercare di aiutarci reciprocamente a capire che sono due piani diversi. Noi dobbiamo parlare di queste persone con rispetto, come cristiani, dobbiamo averle presenti nel nostro cuore, dopodiché noi non neghiamo, anzi diciamo, alla politica interessati di questo problema. Gestiscilo, perché non è che il cristiano non vede le sofferenze, i disagi, le problematiche sociali che sono legate alla presenza di questi profughi, di questi immigrati clandestini e quant'altro che abbiamo nel nostro paese. Il cristiano si rende conto dei problemi, ma una volta rispettata la persona dice alla politica, quello è il tuo campo. Quindi l'equivoco di fondo è quando ci si aspetta che la Chiesa faccia da supporto alle strategie politiche. Che poi, quali sono le strategie politiche? Perché se ragiono in termini di destra, faccio un discorso. Se ragiono in termini di centro-sinistra, ne faccio un altro. Se ragiono in termini di estrema-sinistra, ne faccio ancora un altro. A chi dovrebbe far da appoggio la Chiesa? Quali discorsi dovrebbe far da parte? Allora qua comprendiamo che il Vangelo è prima e al di sopra delle ideologie, e il Vangelo non può prestarsi a far da supporto, a far l'assist a qualche ideologia, perché a quel punto il Vangelo diventerebbe ideologia, diventerebbe scienza umana, diventerebbe pensiero umano, cioè perderebbe la sua trascendenza. Quindi mai il Vangelo può diventare stampella alle scelte partitiche. La politica cerchi, con tutto il rispetto che il cristiano domanda verso le persone, la politica interpreti questo disagio, lo gestisca, faccia le leggi adeguate, perché vengano risolti i problemi e perché si risolva probabilmente alla radice questo problema. Ma ripeto, non vanno mai confusi i due piani, facendo in modo che in qualche maniera il messaggio del Vangelo si trasformi in ideologia. Vorrei fare un appunto, ma con grande bontà, con grande delicatezza, a quel messaggio che il parroco di Pistoia ha voluto mettere su Facebook quella sera, quando dicendo questi stranieri sono la mia patria, i razzisti e i fascisti sono i miei nemici. Ecco, forse l'errore in tutto questo è stato un errore nel comunicare questo, perché una frase del genere, ripeto lo dico con molto rispetto, ha finito per diventare, per collocarsi nella stessa logica ideologica dall'altra parte di quella che è la logica ideologica di chi dice fuori gli immigrati, buttiamoli tutti a mare, che tornino nei loro paesi e noi non li vogliamo. Lì diciamo quella è una logica, un'ideologia, è una scelta di parte, è una visione della società che il cristiano non condivide. Ma non possiamo neppure dire noi ci schieriamo dall'altra parte perché noi abbiamo anche noi i nostri nemici, perché la nostra patria è altrove, perché chi non la pensa come noi è un mio nemico. Il Vangelo non ha nemici e quando ci fossero anche dei nemici il Vangelo dice pregate anche per loro. Ecco, quella frase, per l'amor di Dio, buttata lì forse con un po' di enfasi emotiva e questo lo si capisce, però ha finito per dare l'impressione che si fossero create due contrapposizioni ideologiche. Dall'altra parte ci sono loro che non vogliono gli immigrati e noi siamo invece dall'altra parte, dall'altra facciata, contro di loro. contro di loro. Ecco, forse l'errore è stato proprio quello di insinuare che come cristiani noi siamo persone contro. No, noi non siamo contro nessuno, perché è il Vangelo che ce lo domanda, che ci dice di pregare anche per quelli che ci fanno del male, che ci dice di voler bene anche ai nostri nemici, che ci dice prima di andare sull'altare, se sai che tuo fratello ha qualcosa contro di te, va prima a riconciliarti con lui. Quindi ecco, quella frase non aveva un sapore evangelico, io ho scelto il Vangelo. Quella frase aveva un sapore ideologico, come voi siete fanatici da una parte, noi rischiamo di essere fanatici dall'altra. Ecco, allora la speranza è quella che di fronte a questi grandi problemi, prima di tutto, si capisca che lo scenario politico è cosa diversa dallo scenario cristiano, ma soprattutto si capisca che noi come cristiani non siamo chiamati allo scontro, siamo chiamati all'incontro.